Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'Ortovox Traverse Lite da 20 litri uno zaino abbastanza a tutto fare di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa Iniziamo dallo schienale di questo Traverse Lite 20 litri qui troviamo uno schienale che va a diretto contatto con la schiena uno schienale composto da una rete in mesh che dovrebbe garantirgli una certa traspirabilità ma che a livello di traspirabilità dicendo la verità diciamo sì, è nella norma non è che brilli particolarmente per la sua traspirabilità utilizzandolo in delle giornate primaverili si inizia a sudare abbastanza uno schienale però che andando a diretto contatto con la schiena fa sì che il carico sia sempre ben vicino al nostro baricentro e che lo zaino non balli a destra e sinistra quindi è uno zaino molto stabile uno schienale che poi lo vedremo tenderà a far sì che questo zaino sia particolarmente consigliato per delle attività come la via ferrata per quanto riguarda la fascia lombare qui non esiste una vera e propria fascia lombare ma troviamo semplicemente un cordino da andare a chiudere sulla parte anteriore che ci permette di poter stabilizzare lo zaino cosa molto apprezzata però che questo cordino si può andare a togliere quindi volendo possiamo proprio andare a eliminare questa fascia lombare l'aspetto molto interessante di questo zaino sono gli spallacci sono gli spallacci perché questo zaino ricorda tantissimo uno zaino da trail running infatti troviamo nella parte di destra una lunga tasca dove andare a riporre magari un telefono anche perché è chiusa da zip nella parte di sinistra qui troviamo due tasche un'anteriore e una posteriore in cui con l'anteriore possiamo metterci qualche oggetto in cui la posteriore ci sta un soft flask per quanto riguarda invece il peso che ci si può portare diciamo che non avendo una vera e propria fascia lombare tutto il peso ricade sulle spalle quindi non andrei oltre i 5-6 kg sicuramente non è uno zaino in cui andrà a portare dei carichi estremi infine questi spallacci sulla parte anteriore si possono richiudere con due clip in modo tale da avere proprio lo zaino ben serrato attorno al nostro corpo passando invece a parlare della parte posteriore vi preannuncio che le due lati laterali non sono simmetrici quindi li vediamo entrambi sulla parte di destra troviamo una semplicissima retina dove andare a riporre una borraccia ci sta una borraccia anche di grosse dimensioni cioè la borraccia da un litro e mezzo ci sta molto bene ma nient'altro c'è semplicemente questa tasca sulla parte di sinistra invece non c'è praticamente nulla non c'è nemmeno una taschina dove andare a riporre una borraccia o qualcos'altro è proprio liscia non c'è nulla diciamo che da questo punto di vista ci si poteva magari aggiungere un'altra taschina dove poter riporre un'altra borraccia comunque si poteva riporre qualcos'altro avendo un lato vuoto è un po' come andare a perdere un po' di spazio nella parte posteriore vera e propria invece troviamo la possibilità di portare dei bastoncini che si porta senza nessun problema o anche una piccozza volendo la possibilità di andare a aggiungere un helmet holder per portare il casco l'helmet holder non è dato in dotazione però ci sono gli agganci e troviamo anche una taschina nella parte superiore abbastanza profonda in cui andare a poter riporre qualche oggetto per esempio ci sono bene degli occhiali, una cartina comunque degli oggetti non troppo grossi taschina abbastanza comunque capiente che devo dire mi è tornata molto utile per quanto riguarda invece la tasca principale questa si apre a mezzaluna con una cerniera che arriva anche abbastanza in fondo allo zaino tasca da 20 litri completamente sfruttabile una tasca che all'interno ha la possibilità di riporre la sua sacca idrica ma diciamo finisce qua nel senso non c'è un granché gli oggetti che andremo a mettere all'interno dovremmo essere bravi anche noi a comporre lo zaino perché poi lo schienale non avendo una struttura rigida fa sì che sappiamo degli oggetti contundenti li sentiamo proprio sulla schiena per quanto riguarda i materiali questo traverse light da 20 litri è fatto principalmente con della poliammide e mi piace molto il fatto che l'80% di questa poliammide sia anche riciclata devo dire che io l'ho utilizzato facendo anche delle vie ferrate in cui ho strusciato molto su roccia e non ho avuto problemi lo zaino è ancora intatto, non ha nessun buco quindi dal punto di vista dei materiali è molto buono poi mi piace molto anche il suo peso dunque parliamo di uno zaino che pesa solo 410 grammi cioè praticamente pesa un 100-150 grammi in più rispetto a uno zaino puro da 3 running quindi sicuramente un ottimo materiale e un ottimo peso arriviamo dunque alle conclusioni iniziando dal prezzo questo orthobox traverse light lo si trova sul sito di orthobox a 150 euro online lo si trova su 120 euro vero consiglio? Sì, sì perché alla fine mi sono trovato molto bene non ve lo consiglierei tanto per dell'escursionismo perché con questo tipo di schienale sudereste abbastanza ma come zaino fast light è un po' per alpinismo perché comunque con la picca lo si può portare all'esterno e ci sta il casco oppure perfetto per la via ferrata cioè questo zaino per la via ferrata è veramente un must have allora sì, per questo due tipi di attività secondo me è l'ideale piccolino, ci possiamo portare il minimo essenziale e andare via in velocità e detto ciò, nella speranza sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima ciao! ciao!